E' davvero la più giovane della squadra di questa Tecno Team, minorenne, 16 anni, Martina Bossi, arriva da Varese con la voglia di imparare. Ma Martina, come ho chiesto alle tue compagne, la sensazione dopo le prime giornate, la prima settimana qua di Albesina, come ti trovi? Sì, molto bene, mi sto trovando molto bene qui ad Albesi, sia con le compagne, sia con gli allenatori e tutto lo staff, quindi dico che come prima impressione è molto positivo. Quindi un buon impatto sicuramente. Buonissimo impatto. L'abbiamo scritto sul sito, ovviamente sei qui per imparare. Certo, per imparare, per imparare dalle mie compagne e da tutto quello che la loro esperienza mi può dare e da tutto lo staff tecnico. Ai tifosi? Ai tifosi un saluto e venite numerosi alle partite che il vostro tifo ci caricherà molto. In bocca al lupo Martina. Crepi, grazie mille. Grazie.